Mentre il Comune di Salerno ha appena speso 50.000 euro per le fioriere, per proteggere il suo cantiere preferito, quello del Crescent, noi invece cerchiamo di portare avanti iniziative concrete che facciano capire le nostre idee di città. Sabato tutta la cittadinanza è invitata ad una festa di partecipazione che noi porteremo avanti dal Masso della Signora fino a Via Indipendenza per il progetto La Città dei Belvedini. Andremo nelle aree degradate della città, faremo vedere ai cittadini come quelle che oggi sono il simbolo dell'abbandono causato da una politica vecchia e stanca potrebbero diventare con noi zone di ricchezza, turismo ed opportunità per la città. Lo faremo dal Masso della Signora fino a Via Indipendenza andando in varie zone della città che per noi sono alture che affacciano sul mare che ad oggi sono dimenticate ma domani potrebbero diventare un vero e proprio percorso turistico e attrattivo della città di Salerno.